Buonasera, benvenuti al ristorante di Casalice. Questa sera non saremo in diretta però perché abbiamo avuto degli imprevisti per la cena, però comunque ho fatto un video per voi e vi spiegherò come fare il ketchup di beberoni, mela e banana, quella che avevo proposto una volta vicino al baccalà. Allora, adesso vi spiegherò appunto come fare questo ketchup. Andrete a prendere dei beberoni rossi, io adesso ne ho usati tre, cioè sono due, però l'altra metà non l'ho tolta perché è verde. Vi ho aggiunto un pomodoro in più, quindi userete dei due peperoni rossi. Andrete a tagliarli a pezzetti, così. Toglierete la parte bianca e tutti i semi in eccesso. Proprio così. Dopodiché comincerete a tagliare. I beberoni. Vieni Marco. In frattempo, dentro la padella ho messo semplicemente un po' di olio a scaldare. I pezzi potranno essere tagliati molto grossolani perché avranno bisogno di un bel, ovviamente più piccoli li fate, più veloce sarà la cottura. Però a noi non ci interessa perché in questo caso non abbiamo fetta e li facciamo un po' più fratti. Quindi cipolla, peperoni, mela, oppure dalla mela togliete il torsolo. Dopodiché andate a mettere la banana e tre pomodori a grappolo. Anche questi tagliati molto grossolanamente. Questo è un ketchup provato in casa e lo zucchero della mela, lo zucchero della banana ci aiuterà ad ottenere un ketchup agrodolce molto molto buono. Che potete accompagnare, vai Marco. Un po' con tutte le salse. Dopodiché comincerete a cuocere, a far rosolare a fuoco alto. Fino a quando non cominciate a vedere che si spappola un po' appunto il tutto. Dopodiché, quando il tutto comincia a spappolarsi, andrete ad aggiungere un mestolo d'acqua e mettete a fuoco medio per circa 40 minuti. E lasciate cuocere così. A questo punto, vedete, il tutto si sta spappolando piano piano. Quindi, adesso andremo ad aggiungere un po' d'acqua. La metteremo a fuoco basso e faremo cuocere appunto per mezz'ora 40 minuti. Ecco, adesso diciamo che è raggiunto il risultato. Metteremo un pizzico di sale. Spegneremo il fuoco. E passeremo all'ultimo procedimento. Andremo a mettere il tutto dentro un frullatore. E andremo a frullare. E andremo a frullare. Ok, adesso il tutto è frullato e lo andremo a passare in uno shinoa. Andremo a schiacciare con il mestolo. E il ketchup è pronto. Basterà metterlo nel frigorifero. Prima fatelo raffreddare a temperatura dell'ambiente. Dopo lo mettete nel frigorifero. Questo qui si rapprenderà ancora di più. E dopo potrete mangiare il vostro ketchup. Spero che questa preparazione vi sia piaciuta. Lo chef Davide vi saluta. Alla prossima ricetta. Stiamo in diretta. Buonasera a tutti.